Manifestazione provinciale di atletica leggera riservata ai ragazzi di prima media delle scuole vicentine in tantissime allo stadio comunale Tony Zen di Rosà per dare il meglio di sé in diverse discipline. Abbiamo fatto velocità ai 60 piani, resistenza ai 600, salto in alto, salto in lungo e lancio del Vortex. Io faccio alto. E com'è andata oggi? Hai saltato bene? Sì, cioè abbastanza. Abbastanza. Ho fatto una serie di giochi come alto, lungo, 60, 600. Io ho fatto i 60. Io ho fatto salto in lungo. I 60 sono arrivato primo. Io ho fatto, non mi sono neanche qualificato. E anche quest'anno fondamentale il contributo accanto agli insegnanti dei compagni più grandi di terza media che hanno fatto parte dello staff tecnico. Ogni anno vengono ad aiutare i loro compagni più piccoli e danno una mano a formare le giurie delle varie specialità. Molto impegno, voglia di vincere ma soprattutto di divertirsi.